L'emozione è stata tanta. Un conto è seguire un pallone su un campo di calcio a scopo benefico, oppure portare avanti il proprio impegno a favore delle donne vittime di violenza. Ben altra emozione è raccontare direttamente al Santo Padre il proprio impegno a favore degli altri. Papa Francesco ha infatti approvato ufficialmente l'attività che l'Associazione Italiana Vittime della Violenza, AIVV, sta portando avanti con perseveranza e sacrificio. Il progetto riguardante la Casa Protetta di Cino è a buon punto, con i lavori di ristrutturazione dell'ex scuola elementare, che avrà utilizzato per ospitare le donne vittime di soprusi, che ormai sono prossimi a partire. Siamo soddisfatti che il Papa ogni anno ci riceve per la giornata internazionale sulle vittime di violenza, ma come ogni anno ci ha sempre ringraziato del lavoro che stiamo facendo insieme alle altre associazioni e squadre che riusciamo a sempre tematizzare questa problematica. L'importante è sempre parlarne e sempre essere sul campo. Anche l'associazione morbeniese All Blacks Vecchie Glorie, fondata da Matteo Dell'Oca, è da sempre vicino a queste nobili tematiche, come dimostrano i numerosi eventi benefici che recentemente il sodalizio è stato in grado di organizzare, riscuotendo un ottimo successo. Sono di quelle giornate da ricordare tutta una vita, perché poi arrivare vicino al Papa, stringergli la mano e parlare anche solo per pochi attimi con lui, sono momenti veramente che ti rimangono nel cuore. Noi siamo veramente felici, sia come nazionale sindaci che ho rappresentato in quell'occasione e anche poi come fondatore, ma lascio poi parlare al nostro Presidente, degli All Blacks Vecchie Glorie. La nazionale sindaci ha 20 anni, che aiuta quindi le associazioni bisognosi con forse più di un milione di euro raccolti in beneficenza e quindi vogliamo proseguire su questa strada, così come i nostri All Blacks, che è solo da quattro anni, ma la strada è quella giusta. Chiaramente sentirci portare i complimenti dal Santo Padre, questa è una cosa che ci tocca al cuore. A Roma erano presenti, oltre a Dell'Oca, che è anche rappresentante della Nazionale Italiana dei Sindaci, Cristian Porta, Presidente del Blacks Vecchie Glorie, con Mr. Memo Pellegatta, Pietro Calabro, Presidente Nazionale Italiana Magistrati e Massimo Santucci, Presidente dell'Associazione Italiana Vittime della Violenza. Siamo molto orgogliosi di questa opportunità, di essere vicini alle associazioni valtellinesi e non solo per queste attività. Soprattutto in questa occasione dobbiamo ringraziare l'IVV, con cui presente Massimo Santucci, di averci dato questa opportunità di presentarci al Papa, consegnare la nostra maglia, col numero uno Papa Francesco. È stata un'emozione incredibile per tutti. Di conseguenza noi siamo, ripeto, da parte di tutti gli All Blacks, ringraziamo Santucci e innanzitutto siamo sempre pronti per qualsiasi iniziativa, se qualche associazione sul territorio aveva voglia di coinvolgerci, a dare una mano per cercare di raccogliere contributi e quindi rendere sempre attiva questa attività sociale in provincia, sia Sondrio, Lecco e Como. Prossimi appuntamenti a breve per gli All Blacks? Prossimi appuntamenti abbiamo l'impegno del 18 di dicembre, in collaborazione con la MGM, dove ci sarà gli All Blacks Vecchie Glorie, All Blacks Belle Glorie, la squadra femminile, dalle 18 alle 20 a Morbegno, al Palafaedo, faremo un incontro dove tutta la beneficenza verrà data all'Humanitas, se non ricordo male, in virtù anche del libro fatto i 20 anni di storia dell'MGM.